No, io vorrei la sigla di Matteo E' tra una cosa seria Grazie, grazie maestro, grazie Da quale punti tu? Allora, io vi chiedo, siccome adesso Matteo ci presenterà una cosa molto seria Molto difficile, un'interpretazione che ieri sera ha fatto alzare tutti in piedi Allora, stiamo parlando dell'adagio di Alpinone Io vi chiedo solamente un pochino di silenzio perché il brano è molto d'atmosfera Ascoltate l'interpretazione di Matteo, unica L'adagio di Alpinone Per tutti voi Grazie Marco Beghezzi Non so come trovarti Non so come cenarti Ma sento una voce No, io vi chiedo, un'automia di Matteo Il l'avvento parla di te Questa anima senza fuori Aspettate Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.